ciao a tutti sono sissi bentornati sul canale oggi approfitto di questa bellissima giornata c'è la luce naturale che mi illumina d'immenso e per parlarvi di profumazione della casa quindi io sono qui con la mia luna oggi ho la luna sono qui con il mio diffusore a forma di luna e vi faccio vedere le mie essenze preferite le essenze che uso per profumare la casa nello scorso vlog nell'ultimo vlog che ho fatto quello un pomeriggio di shopping si intitola vi avevo fatto vedere che avevo trovato le essenze della mia del mio marchio preferito su una bancarella all'interno 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 del centro commerciale globo che è il centro commerciale più vicino a casa mia e quindi vi avevo detto che avevo intenzione di fare un video dedicato perché bisognava parlarne un po più approfonditamente quindi adesso vi faccio vedere il diffusore lo programmiamo insieme e poi vi parlo dell'essenze ho voluto farlo adesso questo video perché secondo me è il periodo anche un po ideale visto che comunque il tempo comincia a farsi freschino e ovviamente non non si tengono più aperte le finestre come in estate certo al mattino bisogna sempre aprire far girare aria però adesso che magari teniamo un po più chiuso utilizziamo un po di più i profumatori per la casa o in questo caso il diffusore e quindi niente quindi parliamo un po di profumazioni parliamo un po di essenze dunque il mio diffusore la luna qua è il magic moon di erboristeria magentina questo diffusore mi è stato regalato dalla mia migliore amica daniela per un mio compleanno non so se era per compleanno per natale comunque mi è stato regalato da lei perché io volevo un diffusore continuavo a comprare quelli che costavano poco diciamo dei cinesi quindi rimanevo con il col braccino corto sul diffusore e per un motivo per l'altro dicevo ma a me il diffusore non funziona non esce il profumo non funziona bene non riesco a capire se sono le essenze non riesco a capire che cos'è che cosa c'è che non vale mi ha detto sai una cosa te lo regalo io per natale o per il compleanno non mi ricordo più mi ha detto te ne regalo uno bello come si deve così almeno vedrai che che ti funziona infatti questo qui io ve lo consiglio faccio ancora vedere erboristeria magentina magic moon si chiama magic moon diffusore vaporizzatore di essenze ed oli essenziali a ultrasuoni quindi è un vaporizzatore a ultrasuoni diffusore di essenze e quindi niente quindi me l'ha regalato e io da quando ce l'ho ho è cambiato tutto da così a così cioè forse merito anche per le essenze che ci metto dentro però l'ho provato sia con gli oli essenziali che con le essenze adesso oggi parliamo di essenze profumate non di oli essenziali però io ho anche gli essenziali puri e devo dire che rispetto ad altri diffusori che non non so non mi profumavo non ero soddisfatta questo è veramente ottimo quindi ve lo faccio vedere com'è allora vedete che qua c'è questa bella sfera in ceramica credo che sia in ceramica a forma di luna con questi buchetti e qui c'è il buco principale da dove esce il vapore qua sopra qua sotto abbiamo i bottoncini di controllo qua in mezzo c'è il l'accensione la spensione insomma il bottone principale di controllo poi qua di fianco troviamo il bottone per l'intensità della vaporizzazione questo diffusore voi lo accendete e c'è sia l'impostazione che un tipo funziona per un tempo limitato io non so quant'è se uno un'ora un'ora e mezza perché non ho mai calcolato insomma quindi dopo un po si spegne e e poi c'è anche la funzione continua che voi lo accendete e continua ad andare fino a che o non lo spegnete o non finisce l'acqua che c'è dentro e si spegne da solo io di solito lo uso con quella funzione lì l'accendo lo faccio andare finché o non sono stufa di quindi sento che l'aria comunque satura di profumo e lo vado a spegnere oppure fino a che non finisce l'acqua che c'è dentro e poi c'è il bottone questo bottone che è il bottone per le luci perché si illumina allora dentro si presenta in questo modo un diffusore normale e c'è la la riga per per l'acqua per il quantitativo massimo di acqua che potete mettere dentro ed è così qua sotto c'è il tappino e è un diffusore normale io praticamente il diffusore si satura un po di profumo quando lo usate perciò se cambiate se siete come me che cambiate fragranza ogni due per tre bisogna pulirlo dentro perché sciacquarlo solamente con acqua non toglie la profumazione che c'è dentro e quindi se volete avere una profumazione al meglio nel senso non inquinata da altri profumi quindi è meglio che ogni tanto gli date una passata io uso lo scottex con l'alcol allora quindi carichiamolo con l'acqua fino alla riga io qui la mia caraffa con l'acqua filtrata ok e ci mettiamo dentro adesso la una delle fragranze che che vi farò vedere ed è la mia preferita opium di teos e poi cominciamo a parlare delle fragranze io metto 4 5 gocce sono sufficienti ok dopodiché lo chiudiamo ok rimettiamo su la nostra luna e possiamo farla partire ok vedete che è partita sta facendo anche delle varie lucine adesso la luce gialla io non so se si riesce a vedere bene adesso è diventata arancione non so se si riesce a vedere bene perché oggi c'era veramente tanta luce rossa forse si vede meglio così fucsia comunque fa un range di luci vi presento le essenze adesso mettiamolo da una parte dove non ci dia molto fastidio tipo qua ok vi presento le essenze le mie preferite sono le essenze di teos che vi avevo fatto vedere nel vlog vedete si presenta così adesso con la luce non si vede il marchio è teos essenza profumata e le boccette sono contraddistinte da questa etichetta dorata sopra abbiamo il nome dell'essenza dunque io ho qua 4 essenze di teos per ora ne ho solo 4 abbiamo messo nel diffusore opium che è vi dicevo la mia preferita ecco qua opium e questa essenza è un'essenza molto ricca molto sensuale è la mia preferita tra tutte queste qua di teos io le ho scelte sulla bancarella sullo stand nel centro commerciale globo io adesso vi dico un po' dove trovarle perché purtroppo teos è un rivenditore all'ingrosso per erboristerie quindi voi se andate online sul sito non potete acquistare direttamente credo perché io ho provato e c'è tipo l'ordine minimo di 100 euro le spese di spedizione gratuite hai 200 euro di spesa e sotto c'è scritto se sei un privato insomma c'è la mappa trova il tuo negozio più vicino quindi io credo che su internet non riusciate a trovarli ho provato a guardare su amazon non li hanno su macro librarsi hanno qualcosa del marchio teos quindi trovate gli incensi in stick altre cose ma non hanno le essenze profumate io vi dico se siete qua in zona nord Italia Lombardia queste essenze le ho trovate nello stand in mezzo alla passeggiata del centro commerciale del centro commerciale Globo di Busnago lo stand è quello dove vende tutte cose naturali lampade di sale saponi essenze appunto ed è vicino a credo che sia vicino a Bottega Verde insomma in quella zona e niente quindi e invece il il diffusore di Erboristeria Magentina credo che si trovi assolutamente online non posso non so dirvi il costo perché non sono andata a vedere in quanto è un regalo oppure lo potete trovare la mia amica me l'ha preso nell'erboristeria Erbolandia mi pare che si chiami di Trezzano Rosa comunque l'unica erboristeria che c'è a Trezzano Rosa e mi ha regalato un'essenza di queste di Teos quindi anche le essenze di Teos le potete trovare in quella profumeria se no potete andare appunto sul sito e trovare il rivenditore più vicino a voi mettendo dentro il vostro capo il vostro paese insomma so che anche io mettendo dentro il mio paese ho un negozio rivenditore vicino a Avimercate quindi se siete di questa zona le trovate a Trezzano Rosa al globo di Busnago e anche in un'erboristeria Avimercate continuiamo a parlare dell'essenza di Opium questa essenza è un'essenza veramente ricca veramente sensuale floreale lussuriosa ed è veramente cioè è ricca ma non è nauseabonda è floreale intensa molto veramente opulenta e io ve la consiglio anche per una una serata romantica poi passiamo alla mia seconda preferita che è Fiori di Luna Fiori di Luna che tra l'altro mi è andato via il lo stick sopra se io devo trovare se io devo fare una lamentela Teos eccolo qua Fiori di Luna ho cercato anche di scriverlo qua sulla boccetta con l'indelebile ma non scrive neanche il pennarello indelebile se devo fare una lamentela Teos se qualcuno Teos mi sta seguendo Teos per favore metti degli stick che aderiscono di più oppure cerca di scrivere il nome dell'essenza sull'etichetta perché questi stick veramente se ne vanno via come niente poi non stanno più riattaccati e quindi per certe profumazioni magari ci si può confondere Fiori di Luna è tra tutte le essenze di cui vi parlerò oggi quella più forte di questa se la state diffondendo in una stanza piccola come potrebbe essere una cameretta o un bagno ne bastano veramente solamente un paio di gocce perché è veramente un'essenza molto forte però è molto buona è molto fresca secondo me si adatta particolarmente ai bagni io me l'accenderei per un bel bagno rilassante proprio un'essenza secondo me da bagno questa però anche per profumare un salotto con una profumazione abbastanza fresca e Fiori di Luna sa esattamente oggi mi è venuta l'illuminazione sa esattamente delle salviettine fresh and clean sapete le salviettine quelle che si tenevano anche in macchina per pulirsi le mani per rinfrescarsi esatto le salviettine fresh and clean quelle blu sanno esattamente di Fiori di Luna di Theos perché comunque cioè allora io ho qua queste profumazioni che possono essere per esempio questo qua Fiore di Luna Opium o anche per esempio Tabacco che sono delle profumazioni che non è facile da spiegare non sono facili da spiegare come per dire un gelsomino una rosa o una cannella che tutti sanno di cosa sa la cannella tutti sanno di cosa sa la rosa posso dirvi al massimo è dolce è secca è frizzante però spiegare Fiore di Luna voi mi dite ok Fiore di Luna di cosa sa sa di salviettine fresh and clean è un questa è un'essenza veramente molto forte questa è l'essenza che mi ha regalato la mia amica con appunto il diffusore poi insieme a Fiore di Luna insieme a Fiore di Luna c'è anche rosa che tra l'altro mi è volato adesso in questo momento l'etichetta che tra un po' non sarà più attaccata rosa di Theos rosa di Theos è una rosa quindi è un'essenza io direi abbastanza femminile cioè voi potete se avete una famiglia se vivete col fidanzato con il partner eccetera cioè a vostro gusto potete anche diffonderla nella casa però io la trovo un'essenza molto femminile rosa a me piace la profumazione rosa ogni tanto il profumo di rosa non questo in particolare però ogni tanto la rosa può scadere nello zuccherino nel nauseabondo ci sono ho provato dei profumi che sono alla rosa ma vanno nel troppo dolci vanno nel nauseabondo questa è una rosa dolce ma è molto bilanciata cioè se voi l'annusate così dalla boccetta sa proprio di petalo di rosa sa proprio di veramente cioè è una rosa veramente ben bilanciata quindi questa mi piace molto e la metto al secondo posto con fiori di luna poi al terzo posto quella che mi piace di meno di tutte tra le essenze di teos di quelle che ho è tabacco tabacco che è un'essenza abbastanza è sempre fresca è abbastanza speziata io quando l'ho presa sono arrivata a casa gliele ho fatte vedere al camera dead del camera dead mi ha detto tabacco qua non fuma nessuno in questa casa ma non sa di tabacco non sa di sigaretta assolutamente non vi preoccupate sa quasi un po' di profumo da uomo anche questa è un'essenza che fa molto bagno a me veramente ricorda molto il bagno questa essenza e quindi a me così a naso mi piace molto mi piace veramente tanto forse tra tutte queste che vi ho fatto vedere a naso così quindi fuori dalla boccetta è l'essenza che mi piace di più però una volta messa nel diffusore c'è qualcosa che ha una nota di piccantina che mi dà un po' fastidio sinceramente quindi questa essenza mi piace molto a naso però poi una volta nel diffusore mi dà quasi fastidio per forse una una nota piccantina che che ha dentro sapete che io cosa posso fare posso provare a metterla dentro nell'acqua del calorifero e vedere se mi dà meno fastidio magari essendo che dall'acqua del calorifero si espande molto meno perché ovviamente non è come un diffusore ad ultrasuoni che che espande profumo per tutta la camera quindi magari qualche goccia nell'acqua del calorifero mi risolve un pochino questa cosa di quella nota piccante che mi dà fastidio nel diffusore perché veramente è un'essenza molto buona è quasi un'essenza maschile è molto fresca anche questa è abbastanza speziata però veramente mi ricorda un profumo maschile quindi non è un'essenza fiorita però se io vi dico se voi trovate uno stand o nella vostra erboristeria di fiducia o vi trovate in giro e trovate le essenze di Theos provatele cioè sentitele così a naso e sono veramente nel diffusore sono veramente molto valide e niente quindi io non vedo l'ora di provare altre essenze ero curiosa di provare il gelsomino di Theos e anche la fragranza proprio incenso sullo stand non c'era purtroppo online non riesco a reperirle e niente quindi continuerò la mia ricerca di gelsomino ho anche questa essenza che trovate da Iper io l'ho presa all'Iper trovate da Iper ed è di M Fragrance questa è un buon gelsomino perché è un buon gelsomino io impazzisco per il gelsomino mi piace tantissimo però nel diffusore non rende come l'essenza di Theos cioè queste sono veramente essenze molto ricche che si sentono nella stanza mentre questa cioè si sente poco non lo so viene diffusa poco io veramente per ora le essenze che io vi straconsiglio sono difficili da reperire perché sono veramente difficili da reperire però sono veramente di qualità cioè sono essenze che si sentono e quindi niente quindi io con questo vi saluto e fatemi sapere qua sotto nei commenti se già le conoscete o se vi ho messo un po' di curiosità e lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti io vi bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao